parte Nicola Bonito Fagone grida fuori il pallone ma esce con le mani fuori dall'area di rigore attenzione e il regolamento dice che Fagone deve essere espulso punizione per il Camarat l'arbitro non prende nessun provvedimento Fagone grida fuori il pallone ma esce con le mani fuori dall'area di rigore attenzione e il regolamento dice che Fagone